Paolo, lei è un artista fanese. Innanzitutto dove ha avuto inizio la sua formazione artistica? Da piccolo avevo sempre una gran passione per il disegno, per creare, per inventare e poi ho iniziato pur magari contro anche il parere dei genitori. Feci l'istituto d'arte a Fano e poi ho perseguito gli studi presso l'Accademia d'Arti di Urbino. Da lì ho preso la strada dell'insegnamento, sono partito per Trento dove ho insegnato all'eccio artistico di Trento e poi da lì sono passato ad altre scuole, scuola media, poi sono tornato qui a Fano e dove attualmente ho insegnato in diverse scuole della provincia e attualmente ho un incarico presso l'Accademia d'Arti di Rimini dove insegno metodologia della progettazione. Parliamo di pittura, quindi i suoi quadri? I miei quadri sono dei racconti, vogliamo sempre dire si va qua e là per le strade a raccontarsi la vita, dove mi piacciono quelli che sono i segni della comunicazione, i segni della strada, i semafori, le luci della notte, le luci che si infrangono contro quelle che sono le luci del tempo e mi piace raccontare questa città che diventa poi la città dei sogni, la città dell'illusione, la città della teatralità. Come diceva Alberto, tu vivi in un mondo che rappresenta la teatralità del quotidiano. Il colore blu molto spesso fa da padrone perché a me piace moltissimo il blu della notte, il blu che è un colore eccezionale, un colore del sogno, un colore del mistero forse anche. Come lei ha accennato ad Alberto, chi era Alberto? Beh Alberto Berardi era innanzitutto un carissimo amico, un grandissimo personaggio, un uomo di grande cultura, con il quale abbiamo instaurato un bellissimo rapporto e quando avevo qualche idea chiamavo Alberto, guarda c'ho quest'idea e insieme ne parlavamo e lui si entusiasmava più di mille volte di molte cose. Poi ha realizzato diverse mostre? Sì, la prima mostra è iniziata nel 1968, allora avevo 16 anni, una prima mostra a Pesaro, poi dopo abbiamo iniziato una bellissima mostra nel 1970, vi rinzi un premio importante a Modena, il Palazzo dei Congressi, per una scultura che avevo realizzato, poi da lì le mostre ad Ascoli Piceno e poi le mostre a Trento, al Palazzo Pretorio e poi via via le mostre anche all'estero, i contatti con delle gallerie, le mostre importanti che qualche anno fa feci appunto all'Arte Fiera di Tokyo, all'Arte Fiera di New York, fino alle ultime mostre, appunto quella interessante che feci grazie alla collaborazione con Massimo Pugliani alla Rocca Maltestiana due anni fa e poi l'altra che feci presentemente anche alla Rocca di Senigalli. L'artista fanese, amante della propria città, che cosa manca a Fano? Fano ha tantissime cose, forse manca, sì, manca uno degli spazi ancora per poter lavorare per l'arte figurativa, manca un bel museo di arte contemporanea dove gli artisti fanesi che ce ne sono tantissimi possano presentare il loro lavoro anche che duri nel tempo. Progetti futuri? Ce ne sono tanti, ho diversi progetti in corso, mi piacerebbe fare una nuova mostra a Fano. La pittura o comunque il fatto creativo ti prende anime corpo e tu non è che lavori a orari, è sempre un lavoro. Io ai miei alunni gli dico non dormite al noto, no te pensate. Grazie! Grazie! Grazie!